A Salerno, prezzo Palazzo Sant'Agostino, mitin internazionale da bella salernitana d'EcoFood per dirgli studi su seme e la sua storia, quillenaria, filiato dall'embriologa Tiziana Notari. Davanti a più di 150 studenti, 50 medici e scienziati, si sono confrontati sul tema dell'infertilità e della fertilità del seme maschile, che è anche un biomarcatore dell'inquinamento ambientale. Si è portata anche la figura di Avelta, donna medico della grande scuola salernitana, autrice del Trattato de Natura Semis Humana.